esistenza quasi immateriale cerchio esseno 3 febbraio 2004 attraverso nt domanda sappiamo che queste esperienze sono utili a molte entità che manifestandosi o semplicemente ascoltando possono capire e riprendere il cammino ma le entità in situazioni negative sono probabilmente miliardi e miliardi e allora alexander allora vediamo di inquadrare il problema innanzitutto è errato dire che sono miliardi e miliardi le entità disincarnate almeno nel senso che intendiamo come sono io qui in questo momento perché fuori da questa stanza da questa città da questo pianeta c'è un universo infinito in genere tra la chiusura di una parentesi e l'apertura di un'altra possono passare anche secoli del vostro tempo ricordate quanto abbiamo già detto a proposito dello scorrere del tempo ma da una dimensione superiore il vostro tempo è un battito di ciglia credetemi quindi la situazione reale come posso descrivervela non credo sia utile dire a voi che ci sono miliardi e miliardi di entità in realtà ci sono fasi transitorie talmente rapide rispetto a quello che è il tempo percepito fuori della materia che un continuo aprirsi e chiudersi di esistenze nella materia e non solo su questo pianeta ma anche in mondi naturalmente diversi come condizione materiale sono mondi più evoluti dove la materia è meno greve dove su alcuni addirittura si vive un'esistenza quasi immateriale capite comunque per rispondere ancora alla vostra domanda ripeto che certamente nell'astrale ci sono situazioni di sofferenza ma sono sempre transitorie e poi sappiate che ci sono altre possibilità per aiutare queste entità sofferenti o confuse non solo attraverso questo tipo di esperienze che non sono poi così rare se le rapportiamo alla vastità dell'universo su questa terra e nella vostra dimensione noi facciamo continuamente capolino o perché c'è un legame d'amore o perché appunto si creano situazioni come questa ma vi assicuro che ci sono mille altri modi per poter aiutare entità che stanno soffrendo